Ciao, sono Federica Girola. Oggi andiamo a vedere come fare un aperitivo con succo di limone e limo. Come avete visto, ho già messo a raffreddare il nostro bicchiere di servizio. Ora andiamo ad aggiungere del viaggio al nostro shaker. Userò del vermut bianco. Aggiungo del bitter. Vado ad usare una tecnica frowing. Cosa significa? Vado ad ossigenare il mix che abbiamo ottenuto. Come potete vedere, la nostra coppetta è completamente ghiacciata, quindi è ora di completare il nostro drink. Aggiungo della ginger beer, una bevanda sodata allo zenzero. Succo finale, due cucchiaini di succo di limone e limo. Il drink è servito. No. No. Grazie per la visione!